Presidente, stasera a Vertice, sarà risolutivo? Quali sono i nodi ancora da sciogliere? Ma no, non ci sono nodi, ci troviamo. Adesso abbiamo chiarito la delimitazione, più o meno, ci sono ancora da chiarire due o tre punti sulla delimitazione delle competenze nei singoli assessorati. Sono due o tre cose per le quali abbiamo fatto degli approfondimenti, perché su alcuni ambiti ci sono anche delle questioni tecniche che volevamo approfondire per essere sicuri che certe cose si potessero fare. Questa sera ci troviamo, chiariamo questi ultimi punti e poi vi diremo i nomi. E domani ci sarà la comunicazione. Ma si riferisce allo spacchettamento di assessorati? Anche.